fratelli e sorelle nel Signore oggi voglio parlarvi dell'argomento del velo gli diamo questo titolo alla predicazione di oggi il capo coperto da un velo il titolo fa riferimento non solo alla donna ma anche all'uomo perché questo comandamento del velo non solo riguarda non solo riguarda la donna ma riguarda anche l'uomo quindi è qualcosa che devono sapere sia gli uomini che la donna poi questo argomento deve essere conosciuto bene diciamo c'è solo un capitolo principale quindi una parte di un capitolo il capitolo 11 di Prima Corinzi quindi si può facilmente anche ricordare dove bisogna saperlo questo argomento prima di tutto per metterlo in pratica e poi anche per passarlo agli altri capite? perché quello che noi sappiamo non solo non soltanto lo dobbiamo mettere in pratica noi ma quando abbiamo l'opportunità dobbiamo anche ricordarlo agli altri quindi farlo notare quindi mettere in pratica e far notare anche trasmetterlo diciamo agli altri agli altri fratelli e le altre sorelle che magari non hanno ben compreso questo comandamento quindi andiamo a leggere adesso andiamo a leggere la parola di Dio al capitolo 11 di Prima Corinzi un piccolo velo ma molto dibattuto in ambito evangelico questo questo argomento quindi è importante conoscerlo conoscere bene di che cosa si tratta ora leggiamo al capitolo 11 di Prima Corinzi dal versetto 2 leggeremo fino al versetto 16 or io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e ritenete i miei insegnamenti quali ve li ho trasmessi ma io voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse rasa perché se la donna non si mette il velo si faccia anche tagliare i capelli ma se è cosa vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli o radere il capo si metta un velo poiché quanto all'uomo egli non deve velarsi il capo essendo immagine e gloria di Dio ma la donna è la gloria dell'uomo perché l'uomo non viene dalla donna ma la donna dall'uomo e l'uomo non fu creato a motivo della donna ma la donna a motivo dell'uomo perciò la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende d'altronde nel Signore né la donna è senza l'uomo né l'uomo senza la donna poiché siccome la donna viene dall'uomo così anche l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio giudicatene voi stessi è egli conveniente che una donna preghi il Dio senza essere velata la natura stessa non vi insegna ella che se l'uomo porta la chioma ciò è per lui un disonore mentre se una donna porta la chioma ciò è per lei un onore perché la chioma le è data a guisa di velo se poi ad alcuno piace essere contenzioso noi non abbiamo tale usanza e neppure le chiese di Dio fino a qui fino a qui questo è ciò che l'Apostolo Paolo ha scritto alla chiesa di Corinto va bene l'Apostolo Paolo ha scritto queste parole alla chiesa di Corinto ai santi che erano a Corinto c'è una cosa importante prima di tutto voglio farvi considerare questo che è l'Apostolo Paolo che ha scritto queste parole l'Apostolo Paolo che era ispirato da Dio l'Apostolo Paolo che è stato scelto va bene è stato salvato gli è apparso Gesù Cristo nella via di Damasco e lo ha salvato poi lo Spirito Santo vi ricordate quando era nella chiesa di Antiochia lo Spirito Santo lo chiamò al ministerio di Apostolo era dottore era dottore della legge l'Apostolo Paolo e fu chiamato come Apostolo fu chiamato come Apostolo dei Gentili lui fu chiamato lui e fu chiamato Barnaba questo è l'Apostolo Paolo che ha scritto queste parole e ha insegnato ai Gentili ora andiamo a leggere andiamo a leggere i Natti quindi quindi l'Apostolo Paolo essendo stato chiamato da Dio salvato l'Apostolo Paolo ora leggiamo in Galati leggiamo in Galati da chi ricevette gli insegnamenti perché l'Apostolo Paolo trasmetteva degli insegnamenti e trasmetteva degli insegnamenti da chi li ha ricevuti però l'Apostolo Paolo è importante anche questo da chi ha ricevuto gli insegnamenti che lui trasmetteva alla Chiesa alle varie Chiese che frequentava o che scriveva delle epistole oppure che andava a trovare e parlava direttamente leggiamo quindi in Galati Galati 1 11 leggiamo queste parole è in vero fratelli io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo quindi vediamo che Gesù gli apparve all'Apostolo Paolo e gli insegnò le cose che doveva insegnargli le cose che lui poi a sua volta doveva annunziare alle chiese ai gentili e alle chiese dove lui si trovava ora visto questo vediamo anche cosa dice la scrittura per quanto riguarda il contenuto di quello che Paolo insegnava leggiamo dobbiamo andare al capitolo 20 di Atti al capitolo 20 di Atti degli Apostoli al versetto dal versetto 18 leggiamo e quando furono praticamente dal 17 così il contesto si capisce bene e da Miletto mandò ad Efeso l'Apostolo Paolo e fece chiamare gli anziani di Efeso che vennero a Miletto e da Miletto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della chiesa quando furono venuti a lui e gli disse loro voi sapete in quale maniera dal primo giorno che entrai nell'Asia io mi sono sempre comportato con voi servendo al Signore con ogni umiltà e con lacrime fra le prove venutemi dalle insidie dei giudei come io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi e dall'insegnarvi in pubblico e per le case cosa alcuna di quelle che vi fossero utili scongiurando giudei e greci a ravedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo quindi vedete riassumendo questa premessa che ho voluto farvi il comandamento del velo è stato scritto dall'Apostolo Paolo che è stato salvato da Gesù Cristo come anche noi siamo stati salvati ma l'Apostolo Paolo gli è apparso Gesù sulla via di Damasco poi è stato chiamato come Apostolo è stato chiamato come Apostolo dallo Spirito Santo per poter trasmettere i comandamenti gli insegnamenti che aveva ricevuto da Gesù Cristo come abbiamo letto in Galati che Gesù direttamente gli insegnò le cose che poi lui doveva trasmettere ai gentili e lui quali erano le cose che lui trasmetteva ai gentili che trasmetteva ai santi abbiamo letto in atti che erano cose utili non si è tirato indietro dall'insegnare tutte quelle cose che sono che erano utili utili a chi utili a chi ascoltava utili perché dovevano essere conosciute cose utili perché dovevano essere messe in pratica quindi questa è la premessa questo comandamento del velo lo ha insegnato l'Apostolo Paolo e dobbiamo vederlo in questo contesto chi era l'Apostolo Paolo e che cosa insegnava l'Apostolo Paolo era sospinto era appunto sospinto da Dio era stato scelto per insegnare ai gentili l'Apostolo Paolo e le scritture le epistole di Paolo erano ispirate dallo Spirito Santo era sospinto dallo Spirito Santo a scrivere le epistole guardate bene che le epistole fanno parte sì noi ce le abbiamo nel canone ma sono proprio epistole ispirate da Dio alla pari dei libri di Mosè e di tutti gli altri libri dei profeti fanno parte delle sacre scritture che sono definite del Nuovo Testamento l'Apostolo Pietro per confermarvi questo l'Apostolo Pietro dice dice delle delle epistole dell'Apostolo Paolo allora dice così quindi dobbiamo leggere il secondo a Pietro perché prima di passare a spiegare quello che ha detto Paolo dobbiamo capire da chi provenivano quelle parole quindi è importante questo capire anche anche quando scriveva l'Apostolo Paolo da chi proveniva il suo parlare guardate cosa dice l'Apostolo Pietro seconda Pietro capitolo 3 dal versetto 14 perciò perciò diletti aspettando queste cose studiatevi di essere trovati agli occhi suoi immacolati e irreprensibili nella pace e ritenete che la pazienza del Signore nostro è per la vostra salvezza come anche il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data e questo egli fa in tutte le sue epistole parlando in esse di questi argomenti nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire che gli uomini ignoranti e instabili torcono come anche le altre scritture a loro propria perdizione voglio farvi notare questo qui dice l'Apostolo Pietro quando dice come anche le altre scritture è riferito quelle altre scritture sono quelle del Vecchio Testamento la legge e i profeti quando qui dice le equipara quindi equipara con quella parola come cioè che le persone ignoranti e instabili torcono gli insegnamenti dell'Apostolo Paolo che lui ha trasmesso attraverso le sue epistole le contorcono ma l'Apostolo Pietro dice non solo le epistole dell'Apostolo Paolo ma contorcono anche le altre scritture vedete quindi dicendo in questa maniera l'Apostolo Pietro conferma pienamente che le epistole di Paolo fanno parte delle sacre scritture sono equiparate hanno la stessa valenza la stessa valenza degli scritti dell'Antico Testamento sono quindi fanno parte delle sacre scritture questo per farvi capire che l'Apostolo Paolo parlava da parte di Dio l'Apostolo Paolo quando ha scritto qualcosa lo ha scritto perché è sospinto da Dio perché è sospinto dallo Spirito Santo non è che la mattina si alzava e parlava di suo capite era un uomo di Dio era veramente un uomo di Dio l'Apostolo Paolo e questa è la premessa perché queste parole del velo che sono così attaccate che sono poco sopportate l'Apostolo Paolo le ha scritte le ha comandate adesso andiamo a vedere andiamo a vedere come entriamo in questa questione partendo da un presupposto che ho voluto che ho voluto premettere ho voluto mettere davanti a quello che ha detto l'Apostolo Paolo per farvi capire che l'Apostolo Paolo ha scritto le cose utili perché queste cose perché l'Apostolo Paolo era sospinto dallo Spirito Santo era sospinto da Dio a scrivere e a parlare a portare una parola anche a voce e per iscritto secondo come Dio voleva secondo come Dio lo guidava non è che metteva non c'erano nei suoi discorsi nelle sue epistole nel suo parlare nel trasmettere gli insegnamenti ai Santi non c'erano cose disuttili ecco inutili non ce n'erano perché come abbiamo letto in atti degli Apostoli dove parlava appunto lui che lui aveva trasmesso tutte quelle cose che erano utili ai Santi tra le cose che erano utili ai Santi l'Apostolo Paolo ha trasmesso anche il comandamento del velo che adesso andiamo a vedere qui l'Apostolo Paolo vedete dice al versetto 2 or io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e ritenete i miei insegnamenti quali ve li ho trasmessi quindi vedete considerando che i comandamenti di Dio che i comandamenti diciamo che gli insegnamenti dell'Apostolo Paolo che lui trasmetteva erano sospinti dallo Spirito Santo erano guidati da Dio erano provenivano dalla volontà di Dio ecco che qui dice dicendo quando l'Apostolo Paolo dice io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e ritenete i miei insegnamenti i miei insegnamenti non tanto perché erano i suoi che erano usciti dalla sua mente dalla sua volontà no i miei insegnamenti quelli che lui ha insegnato capite ma provenivano da Dio non se li è lui non li ha creati lui non li ha inventati lui questi comandamenti questi comandamenti provengono da Dio quindi lui lodava lodava i corinzi perché ritenevano i comandamenti che lui aveva trasmesso quindi li lodava perché ritenevano i comandamenti quindi se qualcuno non ritiene i comandamenti che sia l'apostolo Paolo che anche gli altri apostoli e anche gli altri apostoli vale un discorso simile perché sono stati scelti da Gesù sono stati scelti da Dio per trasmettere i comandamenti di Dio ai santi ai santi che sono giudei che sono circoncisi e ai santi che sono incirconcisi quindi sono stati scelti degli uomini per portare dei comandamenti per portare sono stati scelti per portare i comandamenti ai santi ai figlioli degli Dio viventi per insegnare tutte quelle cose che erano utili e che gli uomini dovevano sapere devono devono sapere per metterle in pratica per come conoscenza e anche per metterli in pratica questo questo del velo è qualcosa che bisogna mettere in pratica è qualcosa che riguarda sia l'uomo che la donna badate bene non riguarda questo comandamento solo la donna ma riguarda anche l'uomo e adesso andiamo a vedere perché al versetto 3 andiamo avanti leggendo e leggiamo queste parole ma io voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio vedete questa è una premessa prima di introdurre il comandamento del velo l'apostolo Paolo fa questa premessa dice che il capo il capo della donna è l'uomo il capo dell'uomo è Cristo e il capo di Cristo è Dio vedete c'è un ordine ben preciso considerato questo considerato questo adesso Paolo parte e scrive ciò che riguarda il comandamento di cui dobbiamo parlare oggi ogni uomo e dice vedete parte dall'uomo comincia addirittura dall'uomo quindi è importantissimo questo ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo perché abbiamo letto prima che il capo dell'uomo è Cristo quindi l'uomo che prega con il capo coperto non importa che tipo di copertura ha qui si parla di capo coperto può essere un cappello può essere un velo può essere uno straccio può essere qualsiasi cosa che copre il capo la testa sopra la testa ebbene l'uomo quando prega o profetizza per non portare disonore al suo capo che è Cristo l'abbiamo letto prima per non portare disonore a Cristo al suo capo deve pregare con il capo scoperto e questa è la prima parte inizia inizia con questo il comandamento sul velo comincia con l'uomo quindi è importante e parla di un disonore che non deve essere portato al capo al suo capo che è Cristo quindi l'uomo non si deve velare il capo per non portare disonore al suo capo che è Cristo quindi quando prega o profetizza l'uomo è obbligato a non portare niente sul capo poi dice al contrario dice poi parla della donna ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse rasa quindi per quanto riguarda la donna invece la donna deve sul suo capo quando prega o profetizza eh badate bene qui la scrittura è chiaro quindi in questi momenti la donna deve portare il velo quando prega o profetizza se una donna porta il velo in altri momenti o tutta la giornata o anche di notte come ho saputo anni fa che ad esempio le sorelle rumene in Romania in certe comunità portavano il velo tutto il giorno questo non lo chiede le sacre scritture ma se quelle donne si sentivano bene di fare in quella maniera facevano bene perché a noi l'importante la cosa importante è che la donna quando prega o profetizza abbia il capo coperto poi se si lascia il capo coperto anche in altri momenti questo noi cioè la scrittura non lo richiede però se loro si sentono bene così per evitare diverse problematiche tipo se sono per strada come faccio a pregare il Dio se non ho il velo quindi per risolvere queste problematiche se vogliono usare il velo tutto il giorno fanno bene però noi ci atteniamo diciamo scrupolosamente a quello che le scritture insegnano cioè noi il comandamento per la donna è anche per l'uomo quando prega o profetizza perché anche l'uomo quando va in giro e sta meditando sulle cose del Signore ha il cappello in testa basta che non prega e non profetizza diciamo non disonora non disonora il suo capo che è Cristo lo stesso vale per la donna se la donna va in giro sta meditando sul Signore pensa al Signore ma non sta pregando è chiaro che non sta portando nessun disonore al suo capo che è l'uomo però noi ci atteniamo strettamente ci atteniamo strettamente alla preghiera a ciò che riguarda la preghiera è la profezia quando una donna deve pregare o profetizzare deve avere il capo coperto questo è comandato se una donna prega o profetizza qui dice la scrittura se una donna prega o profetizza senza avere il capo coperto è la medesima cosa come se avesse la capigliatura rasata capite? infatti qui lo dice è la stessa cosa quindi porta disonore all'uomo è un disonore per l'uomo avere una donna con il capo rasato perché è lo stesso che se fosse rasa abbiamo letto nel versetto 5 se prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse rasa quindi una donna che prega senza avere il capo coperto è come se avesse la testa rasata badate bene che portare onore onore è importante è importantissimo portare onore al proprio al proprio capo infatti in romani in romani leggiamo capitolo 13 di romani al versetto 7 leggiamo infatti rendete a tutti quel che dovete loro e questo badate bene un comandamento rendete a tutti quello che dovete loro il tributo a chi dovete il tributo la gabella a chi la gabella il timore a chi il timore l'onore a chi l'onore bisogna rendere l'onore a chi bisogna rendere l'onore cioè così come l'uomo deve dare tutto l'onore rendere l'onore al suo capo che è Cristo così anche la donna anche la donna deve rendere onore al suo di capo che è l'uomo perché questo attenzione perché questo questo perché questa differenza questa differenza la vediamo perché poi lo spiega sempre anche l'apostolo Paolo lo cita perché la donna proviene dall'uomo cioè l'uomo è immagine e gloria di Dio va bene è l'immagine e la gloria del suo capo che è Cristo di Dio mentre la donna è la gloria dell'uomo capite proviene dall'uomo infatti la donna è stata fatta come aiuto dell'uomo quindi Dio prima fece l'uomo poi dall'uomo ha fatto provenire la donna per aiutarlo va bene quindi ecco perché c'è questa differenza c'è una differenza vero è che non c'è differenza tra l'uomo e donna per quanto riguarda la salvezza non c'è differenza in Cristo non c'è né maschio né femmina per quanto riguarda la salvezza ma per quanto riguarda invece i comportamenti gli atteggiamenti il vestire e tutto quanto il resto la vita che riguarda questa terra le differenze ci sono e bisogna e bisogna ricordarselo bisogna ricordarsi che le differenze ci sono e quindi bisogna bisogna tenerne conto però davanti a Dio per quanto riguarda la salvezza l'entrata nel regno dei cieli non c'è differenza l'uomo è salvato così come è salvata la donna però fino a quando si rimane su questa terra c'è un ordine ben preciso da mantenere ci sono dei comandamenti per l'uomo dei comandamenti per la donna che talvolta sono opposti come in questo caso per l'uomo è imposto di non velarsi il capo mentre per la donna è imposto è imposto di velarsi il capo quando prega o profetizza per non disonorare il suo capo che è che è l'uomo il capo della donna è l'uomo continuando a leggere il nostro testo il nostro testo qui perché se la donna non si mette il velo si faccia anche tagliare i capelli ma se è cosa vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli o radere il capo si metta un velo allora se una donna praticamente non si vuole mettere un velo si faccia anche radere il capo cioè questo per far capire qual è la vergogna che ne viene e qual è il disonore che viene portato all'uomo in questa maniera come se una donna si facesse radere il capo e questo è segnale di ribellione questo è segnale che non vuole rimanere non vuole occupare la posizione che Dio ha stabilito per la donna ognuno deve occupare gli spazi che Dio ha stabilito per lui non può occupare spazi non può occupare incarichi che non gli sono stati conferiti da Dio quindi ognuno di noi deve tutti uomini e donne devono occupare solo ed esclusivamente quegli spazi quegli e occupare quegli incarichi che Dio gli ha donato che Dio ha stabilito e ha donato in mezzo in mezzo alla chiesa quindi nessuno deve essere ribelle diciamo che né l'uomo né la donna devono essere ribelli ai comandamenti che Dio ha stabilito ed è una cosa vergognosa come abbiamo letto è una cosa vergognosa per la donna farsi radere il capo è completamente rasati quindi noi sappiamo bene che la chioma lo leggiamo poi più avanti la chioma i capelli lunghi di una donna sono per lei un onore sono una cosa anche piacevole da vedersi una donna con i capelli che sono un po' lunghi che sono abbastanza lunghi che sono la chioma diciamo che porta la chioma sono qualcosa che identifica subito diciamo che quella lì è una donna così come un uomo deve avere i capelli corti per lui è un disonore portare la chioma e quindi deve portare i capelli corti subito quando un uomo ha i capelli corti e diciamo già si vede che è un uomo già dai capelli si vede questo quando invece troviamo delle donne che hanno i capelli alla maschiaccio oppure degli uomini che hanno i capelli con la chioma degli uomini tendiamo a dire che sono degli effeminati cioè che hanno degli atteggiamenti femminili che si presentano in una certa maniera cioè non sono mascolini non sono non sono virili ecco perdono qualcosa della loro virilità mentre la donna anche la donna perde qualcosa della sua femminilità se ha degli atteggiamenti che sono maschili se ha un vestimento maschile se ha se ha i capelli corti come maschietti e quello perde la sua femminilità quindi perde la sua identità quindi entra in un campo che si chiama ribellione che diciamo non mantiene non occupa quindi il suo il posto che deve occupare ognuno di noi è stato fatto da Dio se siamo stati fatti così uomini o donne che siamo se siamo stati fatti così vuol dire che Dio ha un piano per noi ha stabilito così lui per noi ha stabilito che dobbiamo essere così dobbiamo occupare il nostro il nostro posto non dobbiamo togliere il posto ad altri ma non perché non siamo capaci o siamo inferiori qui non si tratta di inferiorità non si tratta di questo ci sono molte donne che sono in gamba che sono diciamo spiritualmente da imitare sia per la fede per la condotta per la sapienza per il parlare ci mancherebbe ma qui si tratta di occupare quegli spazi non per quanto riguarda inferiorità ma perché Dio ha stabilito in questa maniera Dio ha stabilito un ordine ben preciso le donne le ha stabilite come un aiuto per l'uomo capite e questo velo che devono mettere in testa devono ricordare sempre questa cosa che Dio ha fatto prima l'uomo e la donna è stata fatta in funzione dell'uomo la donna è stata fatta per aiutare l'uomo e questo velo lo deve ricordare questo velo deve ricordare l'autorità che c'è sopra la donna ed è per questo che la donna non vuole usare il velo perché disprezza questa autorità non vuole essere sotto l'autorità dell'uomo e per questo è il motivo per il quale questo velo è tanto attaccato da molte donne perché sono donne ribelli perché sono donne che non vogliono accettare non vogliono accettare l'autorità dell'uomo sopra di loro però abbiamo visto che Dio ha stabilito queste autorità il capo di Cristo è Dio il capo dell'uomo è Cristo e il capo della donna è l'uomo abbiamo letto prima Paolo l'ha detto se Dio ha stabilito queste cose noi ci dobbiamo solo adeguare dobbiamo soltanto obbedire e sottometterci a quello che Dio ha stabilito quindi ogni forma di opposizione di contenzione a quello che Dio ha stabilito cosa succede? è ribellione cioè ci si oppone a quello che Dio ha comandato quindi l'opposizione della donna che non vuole usare il velo non è che si oppone all'uomo l'uomo viene disprezzato l'uomo viene diciamo disonorato ma la donna in realtà si sta opponendo a quello che Dio ha stabilito ecco quindi che riceverà quello che si merita lo riceverà da Dio non è che lo riceverà dall'uomo l'uomo non è la può punire o fare chissà che cosa chi la punirà chi farà capire chi farà qualcosa sarà il Signore perché Gesù è il Signore Dio che ha dato quest'ordine quindi chi disprezza quest'ordine questo comandamento disprezza il Dio non è che disprezza l'uomo soltanto l'uomo viene disonorato ma viene disprezzato anche il Dio perché queste cose le ha stabilite il Dio vivente vero quelli Dio che ci ha salvati uomini e donne che siamo quelli Dio che ci ha fatto misericordia quelli Dio che ci ha purificato dai peccati ha dato anche un certo ordine nelle cose tra cui questo che la donna ha come autorità su di sé l'uomo ma badate bene non è che è solo la donna che è sottomessa delle autorità perché tutti noi siamo sottomessi all'autorità e siamo sottomessi alle forze di polizia siamo sottomessi alle autorità siamo sottomessi alle leggi di questa nazione i giovani sono sottomessi agli anziani capite quindi i giovani i figli sono sottomessi ai genitori i giovani sono sottomessi agli anziani tutti gli anziani tutta la chiesa sono sottomessi al magistrato alle autorità alle leggi di questa nazione quindi tutti siamo sottomessi a qualcuno e qualcosa quindi non esiste nessuno di noi che è libero dalle incombenze a cui deve guardare da qualcuno che ti deve dire cosa devi fare perché dobbiamo osservare comunque determinate cose e dobbiamo onorare vedete osservando i comandamenti anche quelli che ci dà l'autorità quando sono giusti osservando questi comandamenti noi onoriamo l'autorità se noi non li osserviamo i comandamenti noi disonoriamo l'autorità capite gli portiamo disonore disprezziamo quell'autorità portiamo disprezzo e questo non lo dobbiamo fare anche se si disprezza anche se si disprezza l'autorità di questa nazione si commette peccato si disubbidisce il comandamento di Dio perché Dio ha stabilito anche le autorità delle varie nazioni quindi bisogna obbedire fino al limite che diciamo è quello se l'autorità ci obbliga a non pregare a non evangelizzare più a non pregare più a non riunirci per lodare il Signore è chiaro che in questo caso dobbiamo disubbidire qui è meglio dare gloria onore a Dio che è meglio obbedire a Dio che all'uomo agli uomini però se questi i comandamenti gli ordini le ordinanze le leggi che stabilisce l'autorità non contravvengono ai comandamenti di Dio e quelli siamo obbligati a osservarli siamo obbligati ad osservarli quindi dobbiamo per forza di cose sottometterci alle autorità che Dio ha stabilito su di noi e ne abbiamo tutti ne abbiamo tutti di autorità per quanto riguarda la donna l'autorità a cui è sottoposta la donna diciamo c'è un'autorità oltre alle altre c'è anche quella dell'uomo quindi una più una meno non capisco perché uno una donna si debba ribellare perché poi non è questa autorità stabilita da Dio non è che non è che l'ha stabilita l'uomo questo comandamento questa autorità non è che l'ha determinata l'uomo è Dio che l'ha determinata e l'ha determinata e portata a compimento dall'inizio perché ricordatevi che prima fu fatto l'uomo e dopo fu fatta Eva ed Eva deriva dall'uomo quindi fu fatta come aiuto convenevole per l'uomo e Dio vedete che ha stabilito ha già stabilito che la donna doveva avere come autorità l'uomo ha stabilito Dio quindi non si tratta qui di maschilismo come taluni vogliono tacciarci no vogliono per forza di cose farci passare come persone negative noi dobbiamo credere annunziare quello che è scritto nella parola di Dio dobbiamo annunziare tutto quello che riguarda la parola di Dio tutto quello che è utile e siccome l'Apostolo Paolo ha ritenuto che anche questo comandamento fosse utile e questo anche noi diciamo crediamo anche in questo comandamento lo mettiamo in pratica e lo insegniamo anche agli altri lo trasmettiamo lo difendiamo quando c'è da difendere perché purtroppo è uno di quei comandamenti che è molto attaccato dai ribelli capite da quelli che non vogliono sottomettersi non tanto all'uomo ma a Dio non si vogliono sottomettere ai comandamenti di Dio e si oppongono a questo comandamento infatti vedete lo conferma il discorso che abbiamo fatto lo conferma vedete il versetto 7 poiché quanto all'uomo egli non deve velarsi il capo essendo immagine gloria di Dio vedete perché il capo dell'uomo è Cristo ma la donna è la gloria dell'uomo vedete perché la donna deriva dall'uomo mentre l'uomo è stato creato da Dio la donna proviene dall'uomo sempre creata da Dio però proviene dall'uomo dalla costola dell'uomo quindi proviene dall'uomo perché l'uomo non viene dalla donna ma la donna dall'uomo e l'uomo non fu creato a motivo della donna ma la donna a motivo dell'uomo perciò la donna deve da notare questo deve vedete questo deve è imperativo cioè qui dice perciò una volta che abbiamo detto questo perciò cosa introduce introduce il discorso conclusivo dopo aver fatto i discorsi precedenti dopo aver fatto tutti quei discorsi arriviamo a questa conclusione questo vuole dire l'Apostolo Paolo la parola di Dio ci vuole dire questo quindi sono stati fatti i discorsi cioè abbiamo visto che il capo dell'uomo è Cristo che il capo della donna è l'uomo e che se l'uomo prega con il capo coperto disonora il suo capo e se invece la donna prega col capo senza senza averlo coperto prega o profetizza senza averlo coperto disonora il suo capo che è l'uomo una volta determinato questo che l'ha detto precedentemente l'Apostolo Paolo vedete come cosa dice perciò quindi tenuto conto di quello che è stato detto la donna deve capite deve considerato che disonora il suo capo che è l'uomo se non lo usa allora la donna deve e questo è imperativo questo è il comandamento ecco perché lo chiamiamo comandamento questo del velo lo chiamiamo comandamento perché c'è una imposizione c'è l'imposizione quella deve non è che è facoltativo se lo vuoi usare usalo sei libero di usarlo oppure no no non è così perché se l'uomo prega con il capo coperto disonora il suo capo e nella stessa maniera la donna se prega o profetizza senza avere il capo coperto disonora il suo di capo che è l'uomo quindi perciò la donna deve per quale motivo a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende voi sapete che quando rendiamo un culto vabbè gli angeli sono sempre vicini a noi il Dio manda i suoi angeli che si accampino attorno a noi per proteggerci e preservarci da ogni male perché i nostri nemici sono tanti e noi non sappiamo molte volte secondo me non lo sappiamo molte volte veniamo preservati appunto dagli angeli perché il diavolo e i suoi e i suoi i suoi angeli i suoi demoni vorrebbero farci del male ma degli angeli che sono accampati attorno a noi ci preservano ci preservano quindi ci sono degli angeli attorno a noi e qui Paolo dice che l'obbligatorietà di portare il velo per la donna è dovuta appunto a questi angeli agli angeli che sono attorno a noi quando rendiamo il culto quando quando comunque sono in qualsiasi momento della nostra giornata sono attorno a noi per il motivo a motivo degli angeli deve avere un capo sul capo un segno dell'autorità dell'autorità da cui dipende che è l'uomo l'autorità da cui dipende la donna a motivo degli angeli quindi deve usare questo velo il motivo per cui la donna deve usare il velo anche vedete siccome questo motivo sono gli angeli gli angeli sono presenti anche quando la donna prega da sola quindi quindi il velo la donna non lo deve usare solamente quando è in comunità quando è in un gruppo quando siamo a casa e siamo riuniti per fare un culto no la donna anche se è da sola anche se è da sola deve usare deve usare il velo così come anche l'uomo eh badate bene anche l'uomo anche se è da solo se c'ha il capo coperto si deve scoprire si deve scoprire per non disonorare davanti agli angeli per non disonorare davanti agli angeli il proprio capo che è Cristo quindi l'uomo deve scoprirsi il capo e la donna invece si deve coprire si deve coprire con un velo si deve coprire un fulare un velo quello che deve avere il capo coperto un velo qualcosa che copre il capo che faccia capire a motivo degli angeli che faccia capire che quella donna sta diciamo obbedendo a questo comandamento al comandamento che Dio ha stabilito e riconosce quindi cioè sottomettendosi all'autorità di Dio al comandamento di Dio riconosce che il suo capo che il suo capo è l'uomo e questo riconoscimento è una sottomissione ai comandamenti di Dio cioè in un certo senso il Dio con questo velo sta mettendo alla prova alle donne le sta mettendo alla prova le sta diciamo ne sta provando il cuore quindi una donna che avrà un cuore ribelle si agita e non vorrà mettersi il velo e noi già vediamo che quella donna è una donna ribelle una cosa è se una sorella mi dice fratello io ancora questo comandamento non l'ho capito cioè ho capito che c'è ma non l'ho ancora assimilato devo chiedere a Dio per vedere se lo devo usare oppure no per avere una pienezza di convinzione anche su questo una cosa è parlare in questa maniera ma un'altra è invece intervenire e contendere cercare di annullare toglierlo il comandamento perché voi sapete bene non solo questo ma tanti altri comandamenti ci sono partendo dai seduttori di menti dai cianciatori e seduttori di menti che invece di parlare e aiutare quello che è scritto confermare quello che è scritto difendere quello che è scritto proclamare quello che è scritto i cianciatori i seduttori di menti proclamano il contrario di quello che Dio ha comandato cominciano a predicare il contrario vogliono annullare i comandamenti di Dio esattamente come facevano i farisei i farisei imponevano le loro tradizioni e annullavano i comandamenti di Dio annullavano cioè il loro operato era mettevano in opera dei compartamenti e insegnavano delle cose per annullare i comandamenti di Dio capite e così fanno oggi molti e tra i comandamenti che vogliono cercare di annullare c'è anche questo del velo però fratelli e sorelle e qui è scritto a caratteri d'oro in mezzo a tutti gli altri capitoli dell'epistola di Paola e Corinzi che tanto che tante cose insegna questa epistola tante cose utili tra cui c'è anche questo del velo ma voi immaginatevi se non fosse stata una cosa utile o una cosa passeggera per quale motivo doveva rimanere nelle sacre scritture sarebbe magari potuta rimanere in un'epistola a parte e arrivare ai Corinzi per dire una certa cosa e poi scompariva e non entrava a far parte del canone biblico che fino a noi perché quello che è scritto è per tutti per quelli all'epoca che quando all'epoca in cui insegnavano gli apostoli a voce e per iscritto ma le stesse cose che insegnavano gli apostoli a voce e per iscritto le insegnavano alla chiesa di quel tempo ma le stesse cose valgono anche per noi oggi cioè se l'apostolo Pietro e l'apostolo Paolo tornassero oggi se cambiavano insegnamento se cambiavano predicazione se cambiavano comandamento ma allora sarebbero degli ipocriti perché prima in un'altra epoca hanno predicato una cosa e oggi predicherebbero il contrario capite e questo non può essere non può essere perché in Dio non c'è mutamento se Dio ha ordinato alle donne di duemila anni fa di pregare e profetizzare con il velo sappiate che anche le donne oggi e anche quelle future di tutte le epoche da Cristo in poi dovevano pregare con il velo devono pregare con il velo perché così Dio ha stabilito ha stabilito per tutte le donne e l'uomo invece deve pregare con il capo scoperto guardate bene che per l'uomo pregare con il capo scoperto era diciamo è come una novità cioè la novità stava appunto nel fatto che era l'uomo che doveva scoprirsi il capo non stava sul fatto che la donna doveva rimanere velata anche se poi l'Apostolo Paolo anche se poi l'Apostolo Paolo si sofferma maggiormente sulle donne perché lo Spirito Santo sapeva che sarebbero poi venute in una certa delle donne ribelli quindi ha dovuto fare tutto un discorso tutto un discorso però come anche oggi possiamo vedere gli ebrei se noi osserviamo gli ebrei vediamo che sia gli uomini che le donne pregano con il capo coperto o hanno un cappello o hanno quello scialle che non mi ricordo come si chiama c'è uno scialle della preghiera che usano gli ebrei e se lo mettono in testa si coprono come una sorta di o hanno la kippah in testa quel cappellino che si mette in testa che usa anche e già si mette anche il papa come segno di riverenza e se voi entrate se voi entrate in una sinagoga ebraica sappiate che vi mettono in testa quel cappellino la kippah ve lo mettono in testa quindi quello perché perché deve essere un segno che tu sia ebreo o gentile è un segno di sottomissione a Dio è un segno di di riconoscimento dell'autorità di un'autorità superiore per portargli onore appunto solo che quando Paolo ha scritto ha scritto che l'uomo invece al contrario non deve velarsi il capo quando prega o profettizza non deve velarsi il capo quindi mentre la donna deve rimanere mettiamola così la donna non è cambiato nulla deve rimanere con il capo coperto mentre l'uomo la novità era quella che doveva pregare con il capo scoperto pregare o profettizzare quindi è avvenuto questo e questo è rimasto scritto ed è arrivato fino a noi è arrivato fino a noi nel canone delle sacre scritture e quindi ci dobbiamo credere dobbiamo metterlo in pratica e dobbiamo insegnarlo anche agli altri quando ci troviamo e difenderlo e difenderlo perché badate bene è un velo uno dice ma è una cosa di poco conto non è come altre cose più importanti un velo questo velo cosa fa? cosa ci fa vedere quello che il cuore cosa c'è nel cuore di quella donna capite? ci fa vedere se quella donna ha un cuore ribelle o un cuore mansueto tranquillo che obbedisce ai comandamenti un fratello gli dice sorella devi imparare a pregare a pregare con il velo e subito si mette il velo ecco vedete un cuore mansueto un cuore tranquillo per non scandalizzare nessuno la sorella si mette un velo sono tutti contenti e non c'è nessun problema se invece si ribella è contro l'autorità capite che si ribella comincia a dire ah ma non è trovano tante giustificazioni perché? perché si ribellano all'autorità vogliono sentirsi libere ma questo a che cosa è dovuto? è dovuto a questo famoso movimento femminista anche quello sovvenzionato dal diavolo attraverso la massoneria questo femminismo che vuole far apparire dico apparire perché poi non è possibile perché la donna è diversa dall'uomo la donna ha bisogno di un uomo che la guidi che l'aiuti capite? perché la donna è stata fatta per questo perché non può stare senza l'uomo è stata fatta per aiutare l'uomo quindi la donna trova la sua massima diciamo utilità la sua massima soddisfazione la sua massima espressione ecco nell'aiutare l'uomo nell'aiutare il suo marito nell'aiutare gli altri nel accudire ai figli perché per la donna è stato stabilito un determinato incarico a differenza dell'uomo che è stato stabilito invece sono state stabilite da Dio altre cose quindi il diavolo che sa che Dio ha stabilito queste cose per un ordine ben preciso nella chiesa affinché ci sia un ordine nella chiesa un ordine nelle famiglie anche perché anche in famiglia c'è il marito c'è la moglie la moglie deve stare al suo posto e l'uomo deve prendersi le sue responsabilità perché badate bene il fatto che uno che uno sia il capo chiamato così il capo famiglia non è che questo è un onore che non è soltanto che gli viene dato un certo onore ma gli viene dato insieme all'onore gli viene dato tutto un carico di responsabilità capite quindi l'uomo deve dare tutto se stesso per la moglie come scritto e come Cristo diede se stesso per la chiesa come Cristo ha amato la chiesa l'uomo deve amare la moglie quindi capite quindi non solo non solo l'uomo è il capo famiglia perché è uomo appunto ma è carico di responsabilità quindi da lui dipende tutta la famiglia la famiglia deve andare bene poi c'è un uomo a capo della comunità la comunità deve andare bene bisogna che bisogna tenere conto di tutti quindi quindi vedete l'uomo è vero non è la donna a capo di una comunità non è la donna a capo di una di una famiglia però però visto che c'è l'uomo e l'uomo ha questa grande responsabilità quindi si deve applicare in tutte le maniere affinché le cose vadano bene perché è responsabile di queste cose la donna collabora non è che la donna deve rovinare il lavoro che fa l'uomo è chiaro che la donna collabora però deve stare al suo posto quindi a motivo degli angeli abbiamo visto che la donna deve usare il velo non soltanto quando prega in comunità o insieme agli altri ma anche quando prega o profetizzare quando è da sola non è a chi profetizza non ha senso quindi la profezia ha un senso solamente quando si è in gruppo mentre la preghiera la preghiera la può fare sia quando la possiamo fare tutti quando siamo da soli o anche quando siamo in gruppo riuniti nelle radunanze dico questo che la donna può pregare anche da sola perché ad esempio in alcune Bibbie come la mia il capitolo 11 viene introdotto da una sopra scritta che dice contegno delle donne nelle adunanze cioè come si deve comportare la donna quando ci sono le adunanze cioè volendo intendere con queste parole che quando c'è un'adunanza una riunione di culto la donna deve usare il velo o meglio vuole dire che la donna deve usare il velo esclusivamente quando è in una riunione di culto capite e questa sopra scritta è sbagliata è sbagliata perché perché intanto le sopra scritte non fanno parte delle sacre scritture non è parola di Dio l'intitolazione dei vari capitoli dei vari paragrafi che ci sono nelle Bibbie e voi dovete stare attenti perché perché non sempre sono corretti ad esempio questo qui del velo che ho io nella Bibbia ma mi sembra che in altre non è scritto così c'è scritto soltanto contegno delle donne e quello è giusto mentre contegno delle donne nelle adunanze quello è sbagliato perché il velo la donna lo deve usare ogni qual volta a motivo degli angeli deve usare il velo ogni qual volta prega o profetizza quindi a motivo degli angeli quindi anche quando è da solo anche la sopra scritta bisogna stare attenti dobbiamo conoscere le scritture che noi leggiamo le dobbiamo conoscere nei punti anche negativi capite perché dobbiamo dobbiamo essere pronti a tutto dobbiamo vegliare dobbiamo stare attenti perché se ci tolgono queste Bibbie non ne stampano altre non ne troviamo più di queste dobbiamo leggere le prossime e noi dobbiamo lo stesso utilizzare gli stessi principi di attenzione e dobbiamo vegliare anche con le nuove versioni che usciranno quindi dobbiamo imparare a stare attenti ad ogni cosa ad ogni cosa le sopra scritte non sono ispirate da Dio ma sono aggiunte dagli uomini così come pure i capitoli i capitoli i versetti i numeri sono stati aggiunti dagli uomini dopo utili utili certamente ci sono utili ci aiutano a trovare a scambiare un versetto velocemente io vi dico prima corinzi 11 voi andate subito se no dovrei dirvi andate nella parte in cui si parla del velo e quindi non avendo i capitoli dovrete andare leggendo il testo fino ad arrivare al punto che lo riguarda capite infatti Gesù quando citò ad esempio che Mosè a Mosè gli apparve Dio nel pruno quando ardeva il pruno gli disse come scritto nel passo del pruno capite quindi non citò i capitoli ma perché non c'erano c'erano solo i salmi i salmi sì erano numerati infatti mi sembra Pietro dice come scritto nel salmo secondo quindi i salmi erano numerati ma le altre scritture no però nei salmi poi non c'erano i versetti non c'erano i versetti andiamo avanti andiamo avanti nel leggere ancora le scritture per quanto riguarda il velo al versetto 11 d'altronde nel signore né la donna è senza l'uomo né l'uomo senza la donna è chiaro che poiché siccome la donna viene dall'uomo così anche l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio è chiaro che poi non c'è una differenza diciamo tra l'uomo e la donna perché alla fine tutti provengono da Dio ecco perché la salvezza dell'uomo e della donna poi è uguale come la riceve l'uomo la riceve anche la donna e questa autorità dell'uomo verso la donna non è che la deve deve schiavizzare nel senso che è un essere deve ritenere la donna un essere inutile un essere come se fosse che ne so come se fosse un animale domestico no non è così assolutamente non è così non è così il rapporto che viene posto che viene presentato nelle sacre scritture in altre epistole dell'apostolo Paolo è appunto il rapporto che c'è tra Cristo e la chiesa tra il marito e la moglie quindi quindi badate bene badate bene che questa autorità questa autorità sopra la donna non vuol dire che si può fare quello che si vuole quindi è solamente che la donna si deve sottomettere all'uomo è chiaro che tra due persone se c'è uno che è da ordine che deve dirigere è meglio perché se non se sono tutte e due se non si mettono d'accordo poi cosa cosa succede al versetto 12 poiché siccome la donna no l'abbiamo già letto allora qui poi c'è al versetto 13 guardate cosa dice l'apostolo Paolo giudicatene voi stessi è egli conveniente che una donna preghi il Dio senza essere velata fa questa domanda avendo ora fatto tutto il discorso che abbiamo fatto avendo letto tutti i passaggi l'apostolo Paolo dice è conveniente che una donna preghi senza essere velata no non è conveniente perché se una donna prega senza essere velata cosa succede succede che disonora il suo capo capite quindi porta disonore quindi pecca è così nella stessa maniera l'uomo e come facciamo la domanda riportiamo la domanda verso l'uomo è conveniente che un uomo preghi Dio essendo velato no non è conveniente che l'uomo preghi velato perché se l'uomo prega con un velo in testa disonora il suo capo che è Cristo e quindi pecca e quindi non va bene in quella maniera quindi vedete vedete che Paolo fa sì la domanda però la risposta si deve rispondere a quella domanda considerando il discorso precedente che l'Apostolo Paolo ha fatto e ha imposto nel discorso precedente nei versetti precedenti ha imposto alla donna che doveva pregare con il velo a motivo degli angeli quindi la risposta a questa domanda è che la donna deve pregare è conveniente che la donna deve pregare con il velo al versetto 14 al versetto 14 poi dice la natura stessa non vi insegna ella che se l'uomo porta la chioma ciò è per lui un disonore mentre se una donna porta la chioma ciò è per lei un onore perché la chioma le è data a guisa di velo quindi questi versetti Paolo per cercare una conferma della differenza tra uomo e donna da ciò che un paragone che porta onore all'uomo e porta onore alla donna usa la natura si rifà alla capigliatura perché prima ha equiparato il velo alla capigliatura della donna dicendo che se la donna non si fa non prega con il capo coperto deve anche farsi radere i capelli tagliare i capelli o radere il capo e questo è una vergogna per la donna quindi è un disonore quindi già facendo quel ragionamento adesso adesso si rivolge quindi alla natura e dice ma la donna per una donna è onorevole è un onore portare la chioma è un onore portare la chioma così come per un uomo è onorevole portare portare i capelli corti quindi per l'uomo è onorevole portare i capelli corti per una donna è onorevole portare la chioma quindi questa differenza fa la natura tra l'uomo e la donna la natura chiamata in causa adesso dall'Apostolo Paolo come paragone capito di differenza di onore tra l'uomo e la donna nella stessa maniera riguarda il velo perché quella chioma fa praticamente diciamo viene usata come simbolo del velo non in sostituzione del velo che dopo vediamo parliamo anche di questo perché poi rispondiamo a delle obiezioni non viene data qui non dice la scrittura che i capelli vengono dati come il velo la chioma è data in sostituzione del velo ma come come un velo quindi già la donna è coperta diciamo dai capelli da una chioma che le porta onore e che già la differenzia dall'uomo quindi l'Apostolo Paolo cita questa differenza tra uomo e donna anche la natura anche la natura poi dice se poi ad alcuno piace di essere contenzioso noi non abbiamo tale usanza e neppure le chiese di Dio questa frase mi fa capire che anche all'epoca e poi in tutte le generazioni sicuramente ci sono stati contenziosi che si sono opposti tremendamente al comandamento del velo ma che cosa difficile sarà mai osservare questo comandamento del velo qui non ti stanno chiedendo di tagliarti una mano o un altro organo del corpo qui ti stanno dicendo soltanto a te sorella ti stanno dicendo che devi imparare a pregare con il capo coperto non c'è niente di così difficile da praticare né non ti toglie nessun onore non è un disonore pregare con il capo coperto per una donna così come non è un disonore avere la chioma avere i capelli un po' lunghi no quindi è onorevole così come è onorevole portare la chioma per una donna quando prega o profetizza è onorevole anche pregare con il velo è onorevole e quindi lo deve fare lo deve fare e ci sono c'erano all'epoca e ci sono ancora oggi contenziosi noi naturalmente non abbiamo l'usanza di contendere cioè di cercare di annullare i comandamenti di Dio noi siamo di quelli che i comandamenti di Dio li difendono che i comandamenti di Dio li presentano così come sono noi anzi cerchiamo in tutte le maniere di attenerci strettamente scrupolosamente alla letterarietà del comandamento di Dio quando è possibile chiaro perché alcune cose bisogna interpretarle no? però nella maggior parte dei casi i comandamenti di Dio noi li vediamo li dobbiamo osservare e dobbiamo presentare così come sono scritti come ce li ha come ce li hanno insegnati gli apostoli e come ce li ha insegnato Gesù così cerchiamo di presentarli nella stessa maniera non siamo contenziosi non dobbiamo esserlo opporci al comandamento di Dio neanche a questo del velo perché le chiese di Dio le chiese dei santi le chiese che vogliono servire Dio non devono essere contenziosi non si devono opporre ai comandamenti di Dio non è possibile che si oppongano non devono opporsi e parlare contro i comandamenti di Dio anzi devono difenderli devono parlare a favore dei comandamenti di Dio adesso passiamo perché volevo parlarvi anche di alcune obiezioni giustamente che si incontreranno perché quando parleremo a qualcuno di questo comandamento ci sono quelli che oppongono delle obiezioni particolari ad esempio la prima proviene dal greco perché ormai è assodato che i cianciatori e i sedutori di menti per annullare i comandamenti di Dio si aggrappano sempre a queste lingue originali perché molti fratelli non potendo andare a verificare il significato nelle lingue originali sono spiazzati perché purtroppo studiare le lingue originali ruba molto tempo molto impegno sforzi e non è facile non è sicuro neanche il risultato quindi che sia positivo quindi noi ci teniamo noi siamo tra quelli che si tengono lontani dalle lingue originali andiamo a vedere solo quello che ci interessa in questo caso si aggrappano i nostri avversari gli avversari del comandamento del velo sul velo si aggrappano al versetto 2 quindi andiamo al capitolo 11 versetto 2 di Corinzi prima Corinzi e c'è scritto e leggiamo insieme or io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e ritenete i miei insegnamenti quali ve li ho trasmessi questa parola insegnamenti in greco effettivamente vuol dire tradizioni usanze usanze però abbiamo già detto prima che l'apostolo Paolo ha insegnato le cose utili ha ricevuto i comandamenti da Gesù ha insegnato e ha trasmesso ai santi le cose che erano utili ai santi non ha trasmesso delle usanze che non erano utili ma ha trasmesso delle usanze che invece erano molto utili a chi le ricevevano e andiamo a leggere in un altro punto a conferma di quello che stiamo dicendo in seconda Tessalonicesi nella seconda epistola ai Tessalonicesi al capitolo 2 al capitolo 2 al versetto 15 leggiamo così dunque fratelli state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola sia con una nostra epistola allora leggiamo anche questo versetto quindi esaminiamolo vedete anche qui c'è insegnamenti c'è la parola tradizione in greco quindi qui Paolo esorta esorta i santi di Tessalonica a ritenere queste tradizioni questi insegnamenti che le tradizioni qui viene utilizzato appunto come insegnamenti infatti dice vedete che vi abbiamo trasmessi sia con la parola e sia con una nostra epistola quindi Paolo gli insegnamenti o in greco chiamati detto anche tradizioni ma che poi il senso è quello perché si capisce dal contesto si capisce dal contesto che si tratta di comandamenti di insegnamenti che l'Apostolo Paolo dava dava ai santi delle varie comunità qui dice che sono stati trasmessi sia a voce perché dice sia con la parola e sia con una nostra epistola quindi gli insegnamenti che sono stati dati con l'epistola e a parole ai santi qui di Tessalonica anche se viene usata la parola tradizioni deve essere intesa appunto come insegnamenti perché ad esempio la prima epistola sia la seconda che la prima epistola ai tessalonicesi se noi andiamo a leggere ci sono dei comandamenti importanti a cui bisogna attenersi ad esempio uno di questi è la risurrezione la risurrezione dei morti al capitolo 4 versetto 13 parla della risurrezione dei morti anche quelle è inserita è una dottrina fondamentale ed è inserita ed è inserita dentro questa parola tradizioni che giustamente correttamente nella nostra Bibbia è riportata come insegnamenti ma perché realmente sono anche se il significato originale può essere inteso anche in greco come tradizione quindi ancora un altro versetto sempre in seconda tessalonicesi capitolo 3 al versetto 6 più avanti quindi di nuovo troviamo questa parola vediamo nel contesto in cui viene messa or fratelli noi vi ordiniamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si conduce disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi vedete anche qui la parola insegnamento viene intesa come tradizione cioè in greco è tradizione però qui il contesto anche qui il contesto si capisce che riguarda degli insegnamenti dei comandamenti che Dio ha dato infatti dice noi vi ordiniamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo che vi ritiriate vedete quanto è importante che vi ritiriate da ogni fratello che si conduce disordinatamente praticamente Paolo ha ordinato a quelli che non obbedivano all'insegnamento che lui aveva trasmesso o tradizione dicono i contenziosi però qui Paolo ordina quelle tradizioni che lui aveva trasmesso che i fratelli che di 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 allontanarsi di di ritirarsi da quelli che non osservavano appunto quelle tradizioni che giustamente è scritto insegnamenti nella nostra nella Bibbia quindi quindi non si tratta di usanze secondarie che se uno le vuole fare le pratica se no non fa niente no sono cose ritenute obbligatorie qui l'Apostolo Paolo in questi due passaggi biblici chiaramente lo fa capire gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi con parole con epistole quindi li trasmettevano in questa maniera e se qualcuno poi non li osservava i fratelli da questi che non osservavano questi insegnamenti o tradizioni per usare diciamo questa parola chi non osservava questi queste tradizioni questi insegnamenti che l'Apostolo Paolo trasmetteva ai santi chi non li osservava doveva essere estromesso dalla comunità o comunque bisognava ritirarsi da loro quindi vedete non si trattava di usanze secondarie in nessuna in nessuna maniera ma si riguardava cose importanti erano proprio comandamenti che comandamenti utili cose che erano utili come abbiamo visto in Atti in Atti 20 Paolo trasmetteva ai santi le cose che erano utili che Dio appunto voleva che lui trasmettesse e quindi noi in questa maniera dobbiamo prendere le parole dell'Apostolo Paolo come insegnamenti come comandamenti da osservare un'altra obiezione questa era la prima adesso un'altra obiezione che sollevano quelli che vogliono andare contro questo comandamento contro questo comandamento e dicono che Paolo consiglia di usare un velo era un consiglio quindi non era una cosa obbligatoria quindi non era un comandamento consiglio ma non comandamento qui noi rispondiamo come già ho anche accennato qui Paolo avendo fatto tutto il discorso al versetto 10 11 10 di prima Corinzi dice avendo fatto tutto un discorso per far sì che la donna pregasse con il velo e l'uomo senza il velo dice perciò la donna deve vedete a conclusione quindi del discorso perciò per quello che è stato detto dimostrato la donna deve questo deve è un verbo imperativo obbligatorio indica obbligatorietà in quello che viene detto dopo deve quindi obbligatoriamente deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende quindi questo deve dimostra chiaramente che Paolo non consiglia perché altrimenti avrebbe detto se vuole se vuole mettere un velo no se avrebbe scritto così potevamo ancora discutere se fosse un consiglio oppure no ma siccome deve allora a questo punto è obbligatorio per la donna usare un velo quando prega o profetizza e l'uomo invece l'uomo invece è obbligato a non a non mettersi nulla sul capo quando prega o profetizza che non sia un consiglio lo comprendiamo anche dagli effetti di questo di quello che succede quando per quanto riguarda il pregare con il velo o senza il velo per l'uomo ad esempio se prega con il velo con il capo coperto da un velo disonora il suo capo vedete porta disonore a Cristo e quindi quindi non è facoltativo non è un consiglio se tu è come dire ma tu se vuoi disonorare Cristo lo puoi disonorare se invece non lo vuoi disonorare allora togliti il capello che hai in testa e questo non funziona così l'obbligo è sempre di dare onore e questo è obbligatorio l'abbiamo letto in romani 13, 7 mi sembra che dobbiamo è obbligatorio dare l'onore a chi l'onore non dobbiamo disonorare Cristo noi uomini ma nella stessa maniera è per la donna la donna non deve disonorare l'autorità da cui dipende quindi anche la donna deve portare onore all'uomo quindi è obbligata a portare onore all'uomo cioè non è non è una cosa facoltativa se lo vuole fare lo fa se non no perché se non prega con il capo coperto la donna diciamo commette peccato perché perché disonora l'autorità che Dio ha costituito su di lei e quindi il consiglio qua qui il consiglio non vale qui non c'è nessun consiglio cioè non c'è nessuna facoltà di poterlo usare oppure no cioè uno non è libero di usarlo oppure no il velo è obbligatorio è proprio obbligatorio perché altrimenti si contravengono a tutte queste cose al comandamento che Dio ha dato e si disonora il proprio capo capite quindi anche a questa obiezione quindi anche questa obiezione non ha motivo di esistere perché perché se uno da retta a questa obiezione poi pecca davanti a Dio e noi e noi invece dobbiamo osservare i comandamenti di Dio non dobbiamo peccare ora passiamo alla terza obiezione di cui un po' abbiamo anche già accennato ed è quella che dicono i contenziosi dicono ma la donna ha i capelli lunghi quindi gli è dato come velo capite gli è dato in sostituzione del velo se la donna ha i capelli lunghi è a posto è come se avesse il velo e quindi non deve mettersi sul capo un velo ma qui non dice la scrittura che i capelli la chioma le è data la donna qui la scrittura non dice che la chioma sostituisce il velo qui quando Paolo cita la natura della chioma per quanto riguarda la chioma dell'uomo e la chioma della donna e i capelli corti per l'uomo lo cita come un paragone quindi quando dice vedete il versetto 15 dice 11-15 mentre se una donna porta la chioma ciò è per lei un onore perché la chioma le è data a guisa di velo cioè non è che le è data per velo se fosse scritto le è data per velo cioè sarebbe stato qualcosa di definitivo e andava anche bene ma però poi doveva l'Apostolo Paolo modificare i versetti precedenti perché nei versetti precedenti a questo è imposto alla donna di pregare con il velo quindi doveva essere scritto tutto diversamente perché perché se tu mi modifichi questo versetto modifichiamo questo versetto poi dobbiamo modificare anche tutto il resto altrimenti c'è una contraddizione tra i versetti ma qui comunque non si contraddice nulla perché perché qui dice le è data guisa di velo cioè come un velo a somiglianza del velo capite a ricordanza del velo è questo che vuole che vuole significare qui l'Apostolo Paolo quando cita questo paragone con la natura vuole ricordare che il velo gli è stato dato cioè che la chioma gli è stato dato per ricordare appunto il velo non per sostituire il velo infatti questa guisa di velo guardate ve lo spiego ve lo spiego con un altro versetto biblico che troviamo che troviamo in Pietro nella prima epistola di Pietro perché del diavolo è detto guardate cosa è detto del diavolo allora 5-8 prima Pietro 5-8 siate sobri vegliate il vostro avversario il diavolo va attorno a guisa di leon ruggente cercando chi possa divorare cioè il diavolo va in giro come se fosse un leone ruggente cercando di divorare ma non è che è un leone capite cioè così come i capelli sono dati a guisa di velo però non sono il velo così la stessa cosa vale per il diavolo egli va in giro come se fosse ma per usare un paragone per comprendere capite gli apostoli usano un paragone per farci capire a noi è una similitudine è una figura quindi quindi anche anche il diavolo va a guisa di leon ruggente ma non è un leone realmente capite va come se fosse un leone quindi è una figura per farci capire a noi quanto spaventoso deve essere quanto il diavolo diciamo compie nell'oscurità per cercare di distruggere la chiesa nella stessa maniera per quanto riguarda il nostro testo sul velo anche lì viene utilizzata la natura per far capire che siccome è onorevole per la donna avere la chioma è onorevole anche usare il velo quindi anche questa obiezione obiezione che la chioma è data in sostituzione del velo non è verace ma poi anche lo si capisce anche torniamo indietro di qualche versetto sempre in prima corinzi 11 dove si parla del velo dice così dal versetto 6 11 6 anche dal 4 dal 4 rileggiamo ogni uomo che prega o profettizza capo coperto fa disonore al suo capo ma ogni donna che prega o profettizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse rasa quindi praticamente una donna qui dice se una donna prega senza avere il capo coperto è la stessa cosa ci porta disonore come se fosse rasa quindi anche se ha la chioma e non usa il velo l'apostolo Paolo sta dicendo se non usa il velo anche se ha la chioma è come se fosse rasa cioè il disonore che porta è come se fosse rasata sul capo e quindi non c'entra niente qui non vuole dire che qui anche se c'è la chioma per Paolo se non usa il velo è come se fosse rasata allora vedete che la chioma si capisce che qui non sostituisce il velo altrimenti non avrebbe potuto dire questo poi leggendo ancora il versetto 6 perché se la donna non si mette il velo si faccia anche tagliare i capelli ma se cosa vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli o radere il capo si metta un velo si mette il velo dove? sui capelli perché se gli dice se non si mette il velo fatti tagliare anche i capelli o radere il capo quindi il velo si deve mettere sopra la chioma è obbligatorio metterla sopra la chioma di conseguenza la chioma non sostituisce il velo non sostituisce il velo ma lo conferma lo conferma nella natura cioè nella natura anche se la donna camminando non sta usando il velo però dalla chioma si vede che è una donna e quindi con tutto quello che comporta la differenza tra una donna e un uomo vedete che anche questa obiezione non ha motivo di esistere anche perché se la scrittura insegnava in qualche maniera si poteva dedurre che la donna non deve pregare col capo coperto noi ci saremmo attenuti a questo sarebbe stata anche più semplice ma siccome noi dobbiamo osservare i comandamenti di Dio così dobbiamo credere e così dobbiamo insegnare e così dobbiamo imporre anche agli altri prima a noi stessi e poi agli altri noi ci dobbiamo attenere a quello che è scritto per non disprezzare per non disprezzare i comandamenti di Dio cioè noi non dobbiamo essere contenziosi non dobbiamo contendere contro le sacre scritture contro i comandamenti di Dio quindi vi esorto fratelli voglio terminare con questa esortazione l'esortazione agli uomini è questa ricordatevi che voi non dovete pregare o profetizzare in maniera assoluta con il capo coperto non dovete farlo perché è comandato così se no disonorate il vostro capo che è Cristo per quanto riguarda invece le donne per le donne è comandato invece badate bene che per voi sorelle è comandato che dovete pregare con il capo coperto dovete pregare per non disonorare l'uomo che è il vostro capo che è l'autorità da cui le donne le sorelle dipendono quindi e tutto questo è stato stabilito da Dio ne ha parlato l'apostolo Paolo ma è sospinto dallo Spirito Santo e gli è stato comandato da Dio di dire queste cose non è che le ha dette di suo non le ha volute dire per una sua per la sua volontà l'ha detto perché questo gli è stato insegnato da Dio da Cristo e questo ha insegnato anche agli altri quindi questa era l'esortazione di oggi l'insegnamento e anche l'esortazione a pregare le sorelle con il capo coperto e gli uomini invece badando sempre di pregare con il capo scoperto a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén